Allora, un sacco di cose nuove, tutta la vita, la mia vita che ho vissuto in questi tre anni dei viaggi, di roba, di esperienze, quindi ho messo colori, ho messo strumenti di Tokyo, strumenti di Maragash, ho lavorato con musicisti, sia i miei musicisti, quelli che avete visto questa sera, sia musicisti dei Tokyo, appunto, dei posti dove sono andato, quindi ho messo fatto un po' un mix di colori del mondo. Beh, la realtà della Romana è diversa sicuramente, a Milano è tutto molto più collegato, per esempio le etichette discografiche stanno a Milano e quindi per alcune situazioni è più facile, nel senso se vuoi, vai là, vai a fare public relation, vai a fare, vai a cercare il fit, no? Dato che le case discografiche stanno là, quindi è molto più facile. A Roma, diciamo, è una situazione molto più ghettizzata, però a Roma c'è molta più magia, cioè proprio nella città, nella vita della città, nella città stessa, i posti della città, i posti di Roma sono molto più belli, Roma è molto più bella di Milano, quindi di base l'ispirazione, almeno parlo per me, la trovo molto più a Roma che a Milano. Io ho iniziato con Bombadisc, diciamo, io ho iniziato da indipendente, perché noi siamo usciti con tutto il disco su YouTube, io e Franco, e in quel momento c'è stato un... abbiamo parlato con tutti, tutte le etichette ci hanno... ci hanno scritto, abbiamo beccato tutte le etiche, abbiamo beccato Bombadisc, andamento, una marea di etichette al tempo, e abbiamo già messo tutto il disco. Diciamo, con Bombadisc ci siamo trovati molto bene, avevamo capito che quello era il nostro... era il nostro mondo, se vogliamo, era un'etichetta comunque semplice, in senso buono, genuina, e quindi abbiamo deciso di andare con loro. Loro ci hanno aiutato a mettere insieme il disco, poi stavamo pure, ci aveva chiamato Universal, stavamo edizione Universal, nello stesso momento in cui abbiamo sentito Bombadisc. Quindi il disco che avevamo messo su YouTube, siamo riusciti a metterlo poi discograficamente parlando in un disco vero, con l'aiuto di Bombadisc, che ci ha aiutato anche a mettere a posto delle cose tecniche, che noi venendo da tutt'altro, non sapevamo. E poi da Bombadisc è nato, è continuato del tutto. Ci stanno tre tipologie di contratti, distribuzione, licenza e cast. In cast il master è dell'etichetta discografica, quindi è di Sony, di Universal, di Warner. In licenza tu dai il master, affidi il master per un certo tot di anni all'etichetta discografica, alla major, però resti te, decidi tu che cosa fare, capito? Mentre in cast decidono loro, è tutto loro, rimane loro. E tu prendi, in cast prendi dei soldi per il recording budget e prendi un anticipo. E il master è loro, e loro fanno tutto. Mentre in licenza, come sto io adesso, tu decidi cosa fare te. E lavori insieme a loro, che diciamo ti distribuiscono, e distribuzione magari ti distribuiscono e basta. E insomma, lavori insieme a loro, però comunque restando te, facendo le cose te. Quindi licenza è una cosa molto personale, molto indipendente pure. Ma pure con Bombadischi, quando stavamo con Bombadischi in realtà noi stavamo, lavoravamo anche con la major, con Universal. Insomma, diciamo che la situazione è indipendente, a livelli alti. C'è sempre una mano tesa verso le major. C'è sempre un aiuto, un collegamento. Perché quando stavamo là eravamo collegati. Grazie. Grazie. Grazie.